Cosa c'è sotto la voltola di caduta libera? Ecco svelato il mistero. Tutti i concorrenti alla trasmissione, prima della registrazione, vengono istruiti da uno stuntman, e sottoposti a una prova di caduta. Naturalmente, prima di tutto, ad ogni partecipante, viene fatta firmare una serie di liberatorie, con le quali ci dichiara di essere in perfetta salute, e di non soffrire di cuore, né di mal di schiena, né di aver mai subito gravi operazioni ortopediche. Ma cosa succede quando si apre la botola? Per prima cosa, ci si spaventa per il botto sordo con cui si spalanca la botola. Poi è questione di istanti, ci si sente lo stomaco in gola, e si finisce nel vuoto. Il volo, è di circa tre metri. Dove si atterra? In una piscina gommosa, fatta di morbidissimi cuscini spugnosi di tutti i colori. È talmente morbida che attutisce la caduta e non ci si viene fuori da soli. Più una persona si agita, più ci si sprofonda. Poi, arrivano solerti due robusti addetti alla sicurezza, che ti afferrano per le braccia, e ti fanno riemergere da quel piccolo abisso. Un istante di adrenalina, e il mistero è subito svelato. Grazie a tutti.